ciao a tutti per la prima volta ho avuto lo slime dei me contro te sfida signoresse giochiamo insieme lo slime è coperto vediamo quale becco oh quello del signoresse che vicido che bello tutto vicido bellissimo mi piace non riesco a prendere l'altro che bello c'era scritto si illumina al buio quindi io nella pubblicità avevo visto che si illumina al buio quindi che bello si illumina al buio provo a fare una bolla perché i miei contro te fanno le bolle non ci riesco è troppo viscido se creo lo slime da solo provo a fare le bolle perché i miei contro te ci riescono quando fanno lo slime secondo me devono aiutare questo oh ho preso tutto secondo me è duro lo slime quello che sei dentro te secondo me eh sì un po' è duro oh ci sono delle cose dentro che bello ecco ci sono queste cose che bello mmm profuma oh che bello io sono davvero felice è la prima volta che bello voglio provare da unirli no ho cambiato idea non li unisco perché è troppo bello perché se si azzeccano comunque queste sono le cose del mare perché questo è lo slime del mare quindi papà mi ha comprato il blu del mare che bello questo tutto viscido che bello volete sapere quale è il mio preferito è quello del è tutti quello di tutti e due sono tutti e due belli però questo si attacca è quello un po' questo è più facile da staccare perché è viscido ah fa il rumore dell'acqua che bello se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale al prossimo video ciao salutami contro te ciao 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 ciao